Sono ripartito con i miei acquisti nelle altcoin. In questo video ti spiego il perché e il come mi sto muovendo. Andiamo a vedere. Dopo aver raso al suolo totalmente le mie altcoin, come ho detto nei precedenti video, quando c'è stato l'approvazione dell'ETF dopo il primo pump di bitcoin, quando è arrivato intorno ai 49k, sono andato a vendere tutte le mie altcoin. Adesso, dopo un po' di movimenti, ho aspettato un po' di tempo per vedere come avrebbe scontato il mercato. Infatti ci sono state poi le vendite di grayscale su bitcoin, ci sono stati i miner che hanno preso profitto, tutta una serie di fattori. Sono andato pian piano a reintegrare ciò che avevo venduto. In questo modo ho fatto profitto e quel profitto lì lo sto riutilizzando per andare a ricomprare ai prezzi più bassi. Quindi quella che è stata la mia strategia è stata molto semplice. Ho atteso la notizia dell'ETF appunto. Sono andato a vendere a scaglioni man mano che il prezzo si muoveva. Quindi immagino, questo è stato il mio ritorno sulle altcoin. Ad esempio su Cardano intorno a un 100 e qualcosa per cento, se non ricordo esattamente a quanto ho venduto. Su Solana un bel 700% ce lo siamo portati a casa. Così come su ICP e su tante altre altcoin. Vendute qua, preso il profitto, proprio totalmente asfaltate, adesso i prezzi sono scesi e quindi sono rientrato a comprare. In queste fasi secondo me è molto importante iniziare a prepararsi a livello altcoin. Fermo restando che il prezzo può ancora scendere perché bitcoin non sappiamo adesso se si sia stabilizzato o se abbia ancora intenzione di scendere un po'. Ecco perché sto andando estremamente cauto e man mano che vedo i prezzi muoversi o man mano che capisco quello che sta succedendo sul momento, sul mercato, andrò a decidere se aumentare le sites o meno. Quindi sono per lo più liquido in attesa appunto di movimenti, però inizio già a inserirmi. Le altcoin funzionano così, questo è più che altro per comprendere i cicli, no? C'è bitcoin, si fa ogni 4 anni il suo halving, qui c'è l'halving, post halving il prezzo di bitcoin spara, dopodiché inizia a stornare e qua inizia a sovraperformare eth. Poi dopo eth inizia a sovraperformare tutte le alt principali, quindi high cap e poi via via quelle low cap. Infine c'è tutta la parte, qui parte tutta la storia della DeFi, sono tutti carichi, arrivano tutti i protocolli scam, tutti to the moon. Poi qua arriva la meme, le meme finali, l'ultimo colpo di reni e poi basta. Poi si passa in Burr Market, tutto crolla e tutti piangono, addio Sony di Gloria, addio Lamborghini e qui va a vendere chi ha comprato il top perché funziona così. I polli vendono sotto perché hanno comprato sopra e i furbi comprano sotto e vendono sopra, cioè funziona così il mercato. Generalmente inizio ad acquistare le mie alt a 6 mesi prima, 5-6 mesi prima dell'halving, quindi 6 mesi prima dell'halving vado ad accumulare le mie altcoin. In realtà questa volta ho iniziato già tra gennaio del 2023, in realtà anche qualcosina già a dicembre 2022. Perché? Perché ho visto che stava partendo un po' un rally su bitcoin, cosa che succede e ogni volta l'anno prima dell'halving c'è sempre un po' di movimento che poi dura più o meno fino a luglio-agosto e poi va a fievolirsi. Invece in questo caso si è fatto un bel pump fino a luglio-agosto, io in quella fase ho approfittato con le mie altcoin per vendere un po' a scaglioni. Un po' di lateralizzazione, è uscito ottobre la storia dell'ETF, boom, tutti i mercati to the moon e quindi sono andato a piazzare, a vendere ulteriormente tutte le mie altre altcoin e le ho chiuse, cioè non avevo più altcoin, zero. Ora vado chiaramente a recuperare invece in questa fase, quindi un pochino più in ritardo, in realtà sono partito in anticipo, ho fatto dei bei profitti. Poi ragazzi ognuno parte quando gli pare, cioè io posso andare a comprarmi le altcoin anche in pieno bear market quando valgono assolutamente zero, posso farlo. Io preferisco farlo poco prima dell'halving, qualche mese prima dell'halving, perché? Perché vedo quelle che si sono mosse un po' di più. Vado a ridurre leggermente il rischio, cioè tipo una dot per esempio, non ho nulla contro dot, è una valuta che mi è sempre piaciuta. Non vado magari ad acquisirla durante pieno bear market, ma vado ad acquisirla un po' più vicino all'halving perché vedo come ha performato. In base a quello capisco se c'è possibilità che possa fare delle performance incredibili ulteriormente o meno. Su Solana per esempio abbiamo visto che cosa ha fatto, così come abbiamo visto Cardano, che sono tutte risorte dalle ceneri, Avalanche, e abbiamo avuto uno specchio in questo pseudo bull, che poi è un rally semplicemente pre-halving, dell'anno prima dell'halving, abbiamo avuto questo rally e in questo rally abbiamo visto che cosa si è distinto, che cosa si è confermato e quali anche low cap si sono avvicinate. E in base a questo mi sono poi esposto, ecco perché tendo sempre ad attendere di essere più vicino all'halving, 4-5 mesi, va già bene. Chiaramente si ha un ritorno minore, ma comunque un ritorno importante, quindi per me va più che bene, ognuno ha le proprie strategie, ha le proprie cose, io mi muovo così. In questo caso abbiamo asfaltato tutte le altcoin, adesso stiamo rientrando. Su che cosa? Allora, anche qui un'altra cosa importante da dire è non puoi permetterti di comprare tutte le altcoin del mondo. Allora, bitcoin è un conto, perché funziona in modo diverso e perché è più una riserva di valore, è più una sorta di gold standard, lo chiamo io un po' più di oro, è su un altro piano. Le cripto, le altcoin, che sono quelle con cui fai soldi, sono per me tutte alla fine shitcoin, tra virgolette, cioè da ethereum in giù, anche in realtà un pochino ethereum, anche se probabilmente a maggio-giugno diventerà asset, quindi avrà un'altra connotazione, però per me tutto ciò che è oltre bitcoin in realtà è un pochino una shit. Che non vuol dire brutto, ma vuol dire che con quella roba lì si va a costruire soldi, si fa soldi, c'è niente da fare, è sul mondo altcoin che si fa soldi, non su bitcoin, anche su bitcoin ha avuto il suo tempo, si guadagna ancora per carità, ma è sul mondo dell'altcoin che si fanno i per e quindi è lì che ci esponiamo, consapevoli del fatto che stiamo scommettendo, perché? Perché le altcoin funzionano come il mondo azionario, senza dividendi, che non è proprio il massimo, a meno che ci sono quelle mette in staking e ti danno dei ritorni. Però supportare, cioè entrare in un altcoin, scommettere su un altcoin, significa scommettere sull'azienda che c'è dietro quell'altcoin di, né più né meno. Quindi non dobbiamo legarci a nessun altcoin, diventa l'altcoin della vita, non funziona così, l'ho fatto in passato questo errore, ora so che non funziona così perché so che morta quella ne nasce un'altra. E quindi è un mercato enorme. E proprio per questo non posso neanche conoscerle tutte e non me ne frega niente di conoscerle tutte e buttare soldi su tutti, non mi interessa mettere un euro su tutte le altcoin, mi interessa mettere 100, 1000, 100.000 euro su poche altcoin mirate, che sono quelle che ho analizzato, che seguo, che comprendo e che credo possano fare dei movimenti. Ecco perché il mio wallet è diviso lato altcoin in due parti, high cap e low cap. Qua ci sto mettendo tutte quelle con alta capitalizzazione di mercato. Le top 20-30 su CoinGecko piuttosto che su CoinMarketCap. Di qua invece le low cap, cioè quelle con bassa capitalizzazione ma con marketing forte e poi con una community forte e soprattutto con un progetto valido e che sia possibilmente in trend. Il trend di quest'anno, altcoin, l'ho già detto in mille video, sono di nuovo, ritornerà il gaming, di nuovo tornerà la storia dei metaversi, DeFi probabilmente ritornerà, farà il suo ingresso nuovamente, ma per lo più ragazzi, intelligenza artificiale. Quindi questo è il come mi sono strutturato. Attualmente ti vado a mostrare quelle che sto riaccumulando dopo averle dampate. Ho da un lato, qui ti faccio vedere qualcosina, vedi sono dei bot molto piccoli, ma ovviamente è per avere un'idea, cioè ti ho creato apposta gli indici in modo da poter vedere su quali sto giocando. Allora, iCap, come puoi vedere, sto giocando, do sta qui, sto giocando sulle classiche, quindi Cardano, Avalanche, Ethereum, Matic, Solana. Queste sono le iCap su cui sto scommettendo ora, quindi le classiche. Come puoi vedere sono proprio le classiche. E queste sono le iCap su cui ho già costruito dei piani d'accumulo per poi andare a damparle in altseason. Poi LowCap, ce ne sono anche altre, ma adesso pian piano ti inizio a mostrare queste qui. LowCap invece ho fatto partire queste qui. Le mie LowCap sono attualmente Caspa, Injective, Internet Computer e Fetch. Queste sono le mie LowCap, tra virgolette, che non sono proprio LowCap, perché sono già piazzate molto bene in classifica, però sono per me comunque molto chiaramente meno capitalizzate rispetto a un Solana e così via, Ethereum, Cardano. Ci saranno poi altre Low Low LowCap che andrò ad inserire, ma su cui ancora non sto ponendo l'attenzione perché voglio vedere come sviluppano. Le sto tenendo d'occhio e voglio vedere come sviluppano. Una cosa importante, io ora ti ho detto quelle sulle altcoin, la manciata di altcoin su cui mi sto muovendo io. Non vuol dire che siano le stesse su cui devi muoverti tu. Queste sono altcoin che io mi sto seguendo da tempo, secondo me sono valide, hanno un progetto dietro interessante e hanno una community e un marketing forte, quindi mi sto posizionando per queste ragioni qui. Ognuno poi si posiziona come vuole. In tanti mi avete chiesto di darvi la lista delle altcoin su cui sto puntando e a me non piace mai fare questa cosa qui. Perché? Perché vado a distruggere il pensiero critico di ognuno. Cioè ognuno deve avere la propria capacità di andare a studiarsi il mercato e selezionarsi quelle che sono le valute che secondo lui possono funzionare, non quelle che secondo Stefano. Io non sono qui per darti consigli finanziari, sono qui per mostrarti le strategie che utilizzo, come mi muovo a livello logico, come mi muovo a livello pratico e che cosa faccio. Cioè questo è quello che voglio mostrarti. Poi sul dove lo faccio, con quale valuta, ognuno sceglie. L'importante è che volevo passarti il modus operandi con cui mi approccio al mercato, non dove vado a investire. In questo caso per esempio ETH e ETH, io mi aspetto un bel 10k su ETH, se venisse approvato l'ETF è tutta una serie di circostanze. Matic scambiato 80 centesimi potrebbe tranquillamente tornare, vediamo anche i grafici per capire in che fasi ci troviamo. Cioè questo è Matic, andiamola a mettere il grafico mensile. Questo è attualmente Matic. Ci troviamo in questa fase. Matic ha raggiunto un picco intorno ai 3 dollari, più o meno, 2 dollari e 90, 2 dollari per l'esattezza, 2 dollari e 92. Ci troviamo a 80 centesimi, ragazzi, c'è più che un per due. Quindi sono contento, no? Per me va benissimo. Poi abbiamo, torniamo al nostro bot, poi abbiamo AVAX, AVAX dove si trova? Il suo picco è stato sopra i 140 dollari, ragazzi siamo a 36 dollari, ok? Questa roba qui potrebbe essere fattibile perché è un progetto che non è morto e quindi possiamo vedere delle belle cose. Ecco perché dico comunque entri ed esci, cioè raggiunto il picco, chiudo, la maggior parte la vendo, mi incasso il profitto, magari mi tengo qualche monetina, ma consapevole del fatto che AVAX mi può fare questo e poi, pam, ritornarmi magari su questi valori. Magari non mi torna a questi valori qua, cioè magari non mi torna al minimo di 20 dollari, 10 dollari qua sotto, però mi torna a 40 dollari. Va bene, c'è comunque spazio per speculare. Andiamoci a vedere gli altri, vabbè Solana, questi qua li ho sempre fatti vedere, quindi c'è poco da vedere. Andiamoci a vedere anche però questi qua invece più piccoli, no? Tipo Injective, come siamo messi, eccolo qua. Ora è stra 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 alto, posizionato molto bene, quindi qua ho già venduto, ora sono andato a riaccumulare, ma andrò a riaccumulare fino penso a questi livelli qua, perché magari ci sarà ancora ritracciamento fino a questo livello. Potrebbe poi portarci qua, chi lo sa. Andremo a vedere, cioè finché siamo così a chiacchierare ragazzi sono chiacchiere da bar, ecco perché io dico non mi piace star lì a parlare, fare, cioè dobbiamo vedere. Come si muove il mercato, c'è niente da fare. Soprattutto per i progetti nuovi tipo qua, anche qui. Qui abbiamo avuto un bel movimento, un picco a 0,5, no, un picco a 1 dollaro, siamo attualmente a 0,62, ci possiamo aspettare un ritorno a questo livello, potenzialmente anche a questo livello qua. Dipende come va poi a sviluppare Fetch Eye. Quindi questo è per avere un'idea di come mi sono posizionato, con quali valute attualmente, consapevoli del fatto che possono essere un buon take così come possono essere un fallimento. Dobbiamo essere consapevoli di questo, dobbiamo esporci con i capitali corretti e dobbiamo soprattutto avere pazienza. Sono long term, come vedi non sto facendo trading su questa roba qui, ma sto semplicemente creando dei panieri degli indici dove dentro ci metto in auto ribilanciamento le valute che voglio accumulare. Man mano che ho i DCA che le accumulano, li vado a ricaricare qua dentro e lascio che vadano avanti. Quindi questo è. Le ho asfaltate tutte, sono ripartito, con quantità minime, proprio perché voglio vedere, molte di queste come hai visto sono già iperestese, quindi voglio entrare ma con i piedi di piombo e aspettare che ci siano dei movimenti più sostanziosi per poter entrare. Se non ci saranno, comunque avrò già un piede dentro e qualcosa me la porto a casa. Ecco, questo è il senso. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, lascia l'ai che iscriviti se ti fa piacere al canale. Questo è il modus operandi che sto utilizzando sulle altcoin. Queste sono le alt che attualmente sto tenendo sotto controllo. Ho utilizzato in questo video Pionex, che è un exchange che ti permette di avviare tutti questi bot sia DCA che, come puoi vedere, anche piani in ribilanciamento. Quindi qua sotto ti lascio il link, se vuoi utilizzarlo è gratuito. Detto ciò mi raccomando, esponiti con estrema intelligenza e ci vediamo nel prossimo video.